If there's something on your mind, thinking all the time, thinking all the time, baby Eccomi qua nuovamente, sono Sinit, video da Reblog, direttamente dalla mia pagina YouTube Volevo salutarvi, voglio tutto augurarvi una buonissima estate, raccontarci i nostri prossimi appuntamenti Tra l'altro faccio un piccolo riassunto, appena finito il festival dei calciatori brutti Il festival dei giochi di calcio di squadra, di strada, anche se c'erano tante squadre E appunto il festival che unisce lo sport alla musica e dirò la parte di intrattenimento Finita questa bellissima esperienza abbiamo fatto sei tappe favolose in giro per l'Italia dal nord al sud Contemporaneamente il festival show organizzato dal Triveneto, da queste radio locali del Veneto Dove ho partecipato appunto come ospite musicale insieme ad altri VIPs e colleghi Prossima tappa semestre, il 25 di agosto, quindi segnatevi la data, 25 di agosto Tra l'altro credo anche che alcune puntate andranno in televisione, esattamente sul canale digitale terrestre real time Quindi super sintonizzatevi, vi voglio numerosissimi carichissimi a cantare sotto A cantare Something On Your Mind che sta andando in rotazione, sta continuando ad andare in rotazione il radio Sta mettendo super successi con l'uscita delle P perché è contenuto nelle P Hey Buddy Il remix in Inghilterra continua ad essere in classifica Quindi sono passata alla quinta posizione nella classifica UK Top Club E eccetera eccetera eccetera, grosse grosse novità Nel frattempo attraverso questo video d'area vi racconterò la mia estate E lo vedrete presto, la meta odiosa delle mie vacanze Vi saluta Buddy, che sta al giro pagando per, giù se vedete la coda, si vede? No, non si vede, vabbè, comunque c'è e sta bene e vive in mezzo a noi Vi saluto, vi auguro una buonissima estate Rimanete sintonizzati su Semito Official e su tutti i canali miei, su tutti i miei canali appunto su internet E ci sentiamo presto Ciao 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 Ciao